Bella ragazzi, eccoci con un nuovo spot builder di una squadra da 200.000 accrediti veramente devastante Il modulo che ho scelto è il 3-4-2-1 In porta abbiamo Hugo Lloris, guardate le statistiche, è veramente una sicurezza Centrale Koshelny, a destra Sako del Liverpool e a sinistra Mangala del Manchester City Esterno a destra abbiamo un velocista che è Salah del Chelsea con 93 di velocità Centrocampista Ramirez e altro centrocampista Yaya Tourette del Manchester City pagato 120.000 accrediti Ma è veramente un giocatore che rende molto Sull'altra fascia abbiamo Schurle, attaccante destro Remy, sinistro Dumbia del CSKA Mosca E attaccante centrale abbiamo Boni, uno dei giocatori fisicamente più forti di FIFA, un vero bomber Quindi adesso andiamo a provare sta squadra, vi lascio con gli highlights dei goal E voi lasciate un like se il video vi è piaciuto E iscrivetevi al canale per nuovi video di FIFA World E noi ci vediamo al prossimo video Ehi, ciao Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.